Eccoci qua, ben ritrovati. Allora andiamo a rivedere anche le parole di Acerbi, le lasciamo un attimo in onda grazie alla regia, mentre disquisiamo un po' sulla Acerbi Pensiero appunto. Prima la parola alla difesa, presumo sia difesa, Michele Borrelli. No, no, perché se no partiamo già sul colore delle maglie, invece qua si parla del colore della pelle, che non c'entra assolutamente niente con le maglie. E' una vicenda, sono d'accordo con Acerbi nella prima parte, quando dice che è una cosa che mette tristezza, è una vicenda in cui hanno perso tutti. Tutto però gira, io nell'intervista oggi, se uno deve aggiungere un nuovo pezzo a questa infinita, ormai dice... Si, ormai siamo alle scorie. Alle scorie, quando dice non si può dare del razzista a una persona per una parola malintesa nella concitazione di gioco. Ecco, quando Gesù ha detto il suo virgolettato, tu se vuoi aggiungere qualcosa mi devi dire il tuo di virgolettato. Perché allora separiamo secondo me il lato giuridico dal lato sostanziale della verità. Il lato giuridico io la sentenza l'ho capita, non capisco come fa a non capirla, non so, l'avvocato di Juan Gesù, lo stesso Juan Gesù. Mi sembra abbastanza chiara, anche se uno la può rispettare o non condividere, ma si capisce. La sentenza dice che noi non discutiamo che il Cervi abbia detto certe cose, ma non l'abbiamo visto. Dice che c'è stata anche l'offesa che è ammessa da Cervi, ma non abbiamo la prova che sia discriminatoria, discriminazione razzista. E quindi la parola precisa è perché non c'è una testimonianza eccetera. Quindi la vicenda... Poi io se sono sicuro e mi voglio difendere anche mediaticamente a vicenda chiusa, devo rispondere al virgolettato con il virgolettato. Se no io da questa intervista deduco ancora di più che una parola che in campo può scappare, ma io non sono razzista, però non era con intento discriminatorio. Però se tu non me la specifichi io mi fai rimanere col dubbio. Esatto, il concetto, quello che dice Michele, che se noi veniamo accusati di aver detto un qualcosa di razzista e non l'abbiamo fatto, Luca, probabilmente ci difendiamo più con i denti e con la grinta rispetto a una difesa, se vogliamo, blanda di Cervi. L'amica dell'intervista Monica Colombo è molto brava e la conosco da tanti anni. Manca la domanda cosa hai detto a Juan Jesus e casomai perché gli hai chiesto scusa, che era la chiave. Ora, io ammetto che anche a Sant'Antonio possa partire un embolo, è partito anche a Gesù nel Tempio dei Mercanti, però c'è embolo, embolo. E non credo che dare del negro, del terrone, del ciccione, del pelato, del nannerottolo, uno nel momento in cui l'ossigeno ti sta appannando, perché è una cosa che facciamo tutti, sfoci nel razzismo se non in questa epoca di ipocritissimo politica li corre. Qui il problema non è l'imbolo, il problema è la sincerità, la lealtà e l'onestà, che mi sembrano slalomate. È un continuo slalom, non soltanto da parte di Acerbi, ma da Gravina, da Bodi, da Buffon, che ci ha messo il carico di briscola anche lui. E' questo che Acerbi non fu. Si Buffon ha detto l'importante è che non ci sia cattiveria anche se si dicono certe cose. No, no, ha detto una cosa ancora più inutile. E l'importante è che non ci sia malafede. Cosa vuol dire? Che vuol dire? Cosa vuol dire? Se lo dici, ma senza pensarlo, tra virgolette... Ma non è questione, è questione se tu, come ripeto, dai un epiteto a un altro in un momento in cui l'ossigeno al cervello è poco, può capitare, a chiesto scusa, non abbiamo mai saputo esattamente, lo sappiamo tutti molto bene cosa ha detto. Poi era naturalmente in una banda di cimmette che non sentivano, non vedevano, non parlavano, i suoi compagni, quelli del Napoli, l'arbitro, il quarto uomo, il bar. Quindi l'argomento è chiuso giuridicamente, anche purtroppo nel penale. La tua parola contro la mia, persino nello stupro o nelle violenze domestiche, non ha seguito se non ci sono delle prove. Il problema, che ti spiego perché c'è tanta sorpresa, il problema è che invece nell'ordinamento di quella snella giustizia di cui parla Gravina c'è come il passaggio in cui non è necessario avere la prova, tanto è vero che ci sono dei precedenti. Questa è stata bellamente bypassata e a Cerbi è stato assolto. Io al suo posto comincerei a starmene zitto, però parla, va avanti, parla la moglie, ci sono anche altre cose depravate del nostro calcio come le offese a lei, al figlio, che sono peraltro questioni di social quotidiane, ti ricordi immobile la moglie non più tardi di 15 giorni fa. Chiudo dicendo che alla fine, in tutto questo casino, il pirla è Juan Jesus, che con il suo atteggiamento ha rovinato l'ennesima festa della lotta al razzismo, che è una corbelleria perché non si combatte in questo modo, né dalla federazione, né da Cerbi, né dall'arbitro, né dai giocatori, eccetera. È una stupidaggine, come ripeto, l'epiteto di per sé è una stupidaggine. Il razzismo è una cosa più complessa, più radicata, che si manifesta in altre indiscriminazioni, in ghettizzazioni, in esclusione, non perché tu dai, come ripeto, del pelato, del grasso, del terrone, del negro a un altro in un momento in cui non ragioni e poi gli chiedi scusa. E la cosa finiva lì. Io avrei chiesto scusa e avrei detto cosa avrei fatto, però sono io e c'è una sentenza. Quindi tu dici che in campo, anche Zoff ho sentito in questi giorni, che dice che queste cose devono rimanere in campo. Quindi tu sei del partito che in campo può scappare? No, io non sono di nessun partito. No, del partito, nel senso l'opinione, che può scappare in campo ma non è razzismo? Assolutamente sì. Perché nella nostra convenzione... Ma non è neanche razzismo quello che uno grida allo stadio, abbi pazienza, perché gridano del nano, del terrone, dell'omosessuale, del negro, del bianco, del serbo, dello zingaro. Ma le parole hanno un significato. Sì, ma è un insulto, è un insulto che... Distampo razzista. Distampo razzista finché te pare, ma magari chi lo dice non è razzista e basta. Poi c'è anche la regola del branco. Il razzismo è nella vita quotidiana, negli atteggiamenti che tu hai verso il prossimo. Bianco, nero, verde, giallo, meridionale, suddista, nordista... Però se tu hai 36 anni e dici non sei razzista, ma dici una cosa razzista, ti devi prendere le tue responsabilità. Sì, ma dici una cosa razzista perché oggi, lo ripeto, nell'epoca del politica licorre, ti è diventata razzista. Devo dirti che a Cervi è anche quello del dito medio e tifosi della Lazio. L'ha detto nell'intervista. Cominciamo ad avere qualche precedente un po' sgradevole. La vicenda è sgradevole a 360 gradi e è finita sgradevolmente. Speriamo che con queste ultime munche, dichiarazioni di Cervi, con Buffon, con Gravina, sia finito sto circo. E adesso purtroppo Cervi, con la soluzione, pagherà un dazio poi negli stali dove andrà. Perché è normale che sia così, ma la storia è piena. Allora, intanto salutiamo Angelo Ciocca che ci ha raggiunto in studio. Ciao, Angelo. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao, caro. Buonasera. Ben ritrovato. Prima di sentire gli altri, leggiamo anche le parole di Abodi e Gravina. Così chiudiamo il cerchio sulle dichiarazioni dei protagonisti, se vogliamo, del calcio e delle istituzioni. Quindi il ministro dello sport Abodi dice no, non è questa. Abbiamo una grafica dove parlano sia Abodi che Gravina, tutto condensato nella stessa grafica. L'abbiamo preparata nel pomeriggio, sicuramente arriverà. Intanto, non so se aspettarla. Aspettiamo? Non c'è no? L'attendiamo? Aspettiamo un fiducioso. Non c'è, aspettiamo. Vabbè, tanto ce lo ricordiamo. Di fatto, Marcello, Abodi, diciamo, tra le righe ha fatto capire che non si fida tanto della sentenza che è arrivata. Ha chiusato con un speriamo che Acerbi abbia la coscienza pulita. Ce l'abbiamo? Fantastico. Leggiamola al volo. Mi auguro che chi ha giudicato abbia avuto tutte le informazioni utili per giudicare il primo stralcio di dichiarazione di Abodi. La sentenza è il frutto delle valutazioni di ciò che è stato riportato. Per quanto in altre sentenze il dispositivo tecnico non ha avuto bisogno della prova certa per condannare. Non è un caso che in questo io abbia detto che mi auguro come le informazioni messe a disposizione siano state sufficienti per un giudizio. Mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza. Di diverso stampo, invece, le dichiarazioni del Presidente Rafficici Gravina. Quando vedrò Acerbi non mi esimerò dall'abbracciarlo. C'è una decisione del giudice che tutti devono accettare, compreso chi non si sente soddisfatto. Noi crediamo alle parole di Acerbi. Chi indossa la maglia azzura si esprime con certi valori. Sappiamo che è un bravo ragazzo e quello che ha dato. Marcello. C'è alcune volte veramente. Io Gravina mi domando se quando avrebbe bisogno di un ghostwriter, cioè di qualcuno che gliele scriva prima che vada in pubblico, che lui va sempre di getto, dice le cose. Cioè è stato zitto per due settimane e quando esce fuori tutto è giusto. E poi soprattutto quello che lui chiede è sempre, zitti eh, c'è la sentenza, quindi zitti tutti, non fate casino. Sempre così, come ai tempi di Juve Salernitana, non è successo niente, non fate casino. Cioè quando sa che è dalla parte del torto la federazione, non è che spiega, perché lui dovrebbe spiegarci cosa è successo in questa settimana all'interno della giustizia sportiva, perché noi conoscevamo un altro tipo di ordinamento, un altro tipo di comportamento da parte della giustizia sportiva quando esaminava questi casi. L'onere della prova non era mai stata chiesta. L'onere della prova la si chiede nel giudizio ordinario, nella giustizia sportiva. No, sì gli indizi, ma tanto tu quando stai davanti al giudice sportivo tu devi soltanto provare a difenderti, basta provare a smentire quello di cui tu sei accusato, ma le prove non sono mai state chieste, in nessun processo fino adesso. Gravina ci dica se ha riformato la giustizia sportiva in questa settimana, invece no, lui abbraccia Cervi, lui abbraccia Cervi tutti zitti perché è guai se si parla di sentenza, mentre invece lui dice perché tutti noi siamo convinti che la giustizia sportiva ha fatto bene. Quanto pare a Bodi, che è un ministro dello sport, anche se lo fa in una maniera un po' supercazzolosa, quando fa quella dichiarazione, però di fatto manifesta dei dubbi, sia nei confronti della giustizia sportiva di come è stata esercitata, e come l'ha esercitata il giudice, se aveva veramente a disposizione tutte le prove per arrivare a quella conclusione, tutti gli elementi, più che le prove non ci sono, e anche di Cervi si ha la coscienza a posto. Ezio? Beh, finalmente si è conclusa questa storia, perché cominciava anche, secondo me, ad annoiare un po', però si è conclusa così, non è successo niente, siamo tutti amici, ci vogliamo tutti bene, abbiamo scoperto, abbiamo avuto la conferma che Cervi non sia razzista, forse è solo un po' birichino, un po' maleducato, così non la pensa Juan Jesus, non penso che questo ragazzo si sia inventato tutto, e vedendo quello che è accaduto sul terreno di gioco, la reazione di Cervi, i suoi compagni di squadra che vanno a parlare all'avversario con la mano davanti alla bocca, non mi vengano a dire, ma adesso lo fanno tutti, no, in quella situazione è molto molto diverso che non quando... No, visto che non c'erano testimoni, io vorrei chiedere a Di Marco cosa è andato a dire a Juan Jesus. Giusto. Mi piacerebbe, è andato lì, vis-à-vis, a parlargli con la mano sulla bocca, vorrei capire Di Marco cosa è andato a dirgli. E non ha parlato per pochi secondi, ha parlato a lungo, quindi questo non è... Anche Turam, scusate, è parso davvero molto serio sulla vicenda quando ha parlato di Acerbi che non ha raggiunto la nazionale italiana. Va bene, va bene, però ripeto, ne usciamo come è stato detto all'italiana, adesso sono tutti contenti, è contento Acerbi, è contento l'Inter che ha il giocatore a disposizione, la nazionale, la federazione, quando c'è di mezzo gravida sono anch'io dell'idea che qualche cosa di... Dovrei aggettivarlo nel modo migliore, ma non mi viene in questo momento, perché la mia simpatia nei confronti del... Dei minimi storici. Sì, sì, penso che, come ha detto Marcello, ogni volta che ha la bella pensata di dire la sua, se stesse zitto forse farebbe una figura migliore. Angelo, chi ne esce peggio da tutta questa vicenda, secondo te? Ma allora, intanto io vorrei ricordare che le regole calcistiche avrebbero previsto, qualora fosse realmente capitato, dieci giornate minime di squalifica. E quindi questa è una cosa che dobbiamo tenere presente, cioè il fatto, questo genere di fatto è fortunatamente ben sanzionato e ben punito. E dopo di che la volta scorsa eravamo qui 15 giorni fa e abbiamo detto non facciamo un processo prima che il processo reale avvenga. E tutti eravamo d'accordo, dicendoci dobbiamo affidarci, non alle nostre percezioni, non al nostro giudizio, ma al giudizio della tribuna calcistica, della tribuna sportiva. E adesso il tribunale sportivo si è espresso e nella sintesi cosa ha detto il tribunale sportivo? Non ho gli elementi per potergli... Non ho le immagini. Non ho gli elementi per poter arrivare a dire, guarda che tu quella cosa l'hai fatta realmente. Non mi è successo niente. No, non ha scritto che non è successo niente. Ha parlato di offesa, ha parlato di denominazione. La sintesi reale è o qualcuno mette sul tavolo degli elementi in più o per gli elementi che oggi il giudice ha non è in condizione di dare quella giusta necessaria punizione. Anche a Calciopoli non c'erano gli elementi dell'Inter e poi sono sbuccati fuori nel 2012. Ma guarda caso. Noi però, perdonatemi, non possiamo andare nell'ottica che se il giudice non ha gli elementi... No, nel senso. No, perché la giudizia sportiva... O il giudice inizia ad avere la sfera di cristallo o il giudice deve avere degli elementi oggettivi. Ma così l'abbiamo detto... Non mi ricordo chi è che c'era, aiutatemi, l'ex... Era collegato 15 giorni fa. L'ex... Dirigente... Juventus. Nicola Penta. Moggi c'era, bravo. C'eramo oggi, no, che ci invitava a dire non fate un processo prima che il processo reale avvenga. Però, onorevole, onorevole, però se non siamo d'accordo lo possiamo dire. Anche al di là se ce lo vieta Gravina, eh. Anche se Gravina ce lo vieta. Però io dico... Io dissento da questa sentenza. Puoi aver ragione. Puoi aver ragione perché ci sono degli indizi che giustamente lasciano un'ombra... Quali sono gli indizi, scusate? L'indizio... Gli indizi non ci sono. No, l'indizio è Juan Jesus che va dall'arbitra a dire che mi ha... E Juan Jesus è un critico. Mi ha offeso in maniera... Ho capito. E a Cerbi che va... Mi sembra un indizio di Cadalide. C'erano che non sono un ragazzo di colore e vada dall'arbitra a dire scusate. Ma gli indizi, oltre a Juan Jesus che denuncia la cosa... Che mi sembra abbastanza grosso come indizio. Ho capito. Ma l'altro ti dice di no, quindi devi iniziare a raccogliere degli indizi. Ok, però io voglio chiedere, perché Juan Jesus dovrebbe fare questa cosa... Ma abbiamo già appurato che dal punto di vista squisitamente, si diceva una volta, giuridico, penale o civile, la tua parola contro la mia, senza prove, non ha supporto e quindi... E siamo d'accordo. Tutti a casa. Ovviamente poi se Gravina dice che crediamo ad Acerbi, sottintende che non crediamo a Juan Jesus, ma questo è un problema di Gravina. Infatti non lo nomina nemmeno. Infatti, l'abbiamo inteso, ma l'abbiamo capito. Tutto questo casino succede perché la sensazione che qualcosa sia evidentemente successo, tra l'atteggiamento di Juan Jesus, le scuse di Acerbi, le avvicinanze di Marca, cioè ci voleva un po' di lealtà, sincerità e onestà da parte del signor Acerbi. Quello punto può essere... E poi continua a dire che non l'ha detta quella parola. E continua a mentire, perché qualche cosa... Ma tu te la senti di dire che è sicuro che l'ha detto. Non sappiamo ancora, non l'ha detto né alla stazione centrale né al Corriere della Sera. E su questo siamo d'accordo. Non ha detto... E che basta, è finita la storia. Se io avessi detto, guardate, scusate, io l'ho detto, a me capita di dare del negro, del terrone, persino penso a del ciccione e del pelato, a dei calciatori della mia squadra e sono meridionale. Mi capita, lo confesso, mi sbaglio, mi pento da solo, mi mozzeco la lingua e lo sto dicendo adesso in televisione. Non c'è, non c'è, non c'è qualcosa di male, non bisognerebbe farlo. E' una parolaccia, è un insulto gratuito che ti viene nel momento in cui il cervello è un po' occluso. Sei un calciatore professionista che un mese fa ha fatto il mito medio ai tifosi della Lazio, ecco, sei educato, non sei razzista e la moglie è sotto sciocco per gli insulti sociali. Allora dici, ho sbagliato, ho fatto una calciata, l'ho insultato, ho detto questo. Ma perché voi siete sicuri? No, ancora. E tu sei sicuro? Allora, poi, alla fine, sei qual è il problema? Sei qual è il problema? Che la cosa che all'inizio tu, dicendo non facciamo una questione di maglia, poi alla fine invece è esattamente così. Io, oggi, oramai... No, la questione di maglia la fa Marcello quando tira fuori i calciopoli. No, 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 tu hai detto, no, a me è una colpa, hai detto una frase giusta, non facciamone una questione di maglia, ma il problema è che oramai a questo mondo, a questo mondo, grazie a Dio, Gaber lo diceva 40 anni fa, ci sono le cose di destra e di sinistra, ci sono le cose di... I rigori sono rigori se uno tiene a quella squadra che doveva averlo, non sono rigori se invece è la squadra che lo subisce, il giocatore è innocente se io sono di quella squadra, è colpevole e sono dell'altra, quindi così la giustizia, la lealtà, l'onestà non esistono mai. Vabbè, dipende, io parlo per me. Siccome la verità in tasca non c'era nessuno come dici tu, però visto la dinamica... No, no, loro sì, loro hanno detto che è sicuro che l'ho dita. Vabbè, ok, allora... No, non loro. Voi due, ma loro sono chiedendo a te. C'è anche un labiale che lo dice a voi di vedere, chiedo scusa, scusa, non sono razzista, si vede che lo dite. Lo sai che non... Lo sai che non sono razzista. E cosa gli ha detto, cosa gli ha detto, sei zitto brutto verde, per essere... No, può aver detto cosa? Può aver detto... Ma guarda che io non ho... Hai capito male, scusa se pensi che... Si vede che dice scusa, non sono razzista. E' bravo. Sottintende che evidentemente... No, gli dice alcun'altra cosa. Perché chiedo scusa, non sono razzista. Non fare il finto conto. Lo sai che dice Marcello poi? È una roba pazzesca. Allora, scusa Luca. No, non è una roba pazzesca. No, è pazzesco. È una roba pazzesca disconoscere un fatto che abbiamo visto tutti quanti. Quindi il giudice... Io dico solo che quello che lui ha detto avrebbe dovuto rivelarlo. Eh, quello l'ho detto io per primo. Con sincerità e con le realtà. Non tu. Io l'ho detto. Il signor Acerbi. Eh, ma anche io l'ho detto. Gli ho detto questo. Anch'io l'ho detto per primo quando... Ebbene, lui non l'ha detto. Ma ti sto dicendo Luca che secondo te, da quello che hai detto prima, dimmi se ho capito male, secondo te nel momento in cui puoi, perché se lui, diciamo, se la versione è quella di Juan Jesús nel post, cioè le parole sono quelle, per te non è razzismo. Mentre per il giudice sportivo quello è minimo dieci giornate. Quella è una frase di discriminazione razzista. Ma io sono io e il giudice sportivo e il giudice sportivo. Quindi avresti poi detto che era ingiusta la squalifica perché non era razzismo. Ma cosa c'entra qui? C'è un ordinamento, io ti rispondo, c'è un ordinamento giuridico che è stato bellamente bypassato, cosa che in passato non era avvenuta e ne prendiamo atto, come ci dice il nostro ben amato Presidente. I casi erano diversi. Ripartiamo tra due minuti dal stesso argomento. Angelo, sentiamo a me. No, no, ma io ho una domanda che faccio tutti. Arrivo subito, Marcello. Con una presenza così massiccia della tecnologia, a Cerbi si sarebbe permesso di rischiarla così tanto? Cosa vuol dire? Cioè, voglio dire che... Non ci pensano loro. No, io dico, lui ha subito detto che non è accaduto quel fatto, senza avere coscienza di cosa il giudice potrebbe avere a disposizione. Avrebbe potuto avere a disposizione. Noi stessi per 15 giorni siamo andati avanti a dire vediamo adesso la tecnologia che cosa soffrirà il giudice. Il problema non è questo qua. Io dico, lui l'avrebbe rischiata così tanto. Ma chi se ne frega? È un problema suo, scusa. Ma se ne frega? O non è realmente accaduto? E lui è certo di quel fatto? Se è certo di quel fatto, Juan Jesus va internato. E bisogna dire che è un grande pirla perché ha rovinato un'altra grande occasione di lotta al razzismo. Perché questo sta dicendo chi pensa che a Cervi sia uscita una parola stupidino. Sciocco. Ti faccio nero. Allora, non lo so. Ti faccio nero, ti faccio biondo, ti faccio verde. Non è un problema. Posso però dirvi che la lingua italiana spesso viene male... Sì, va bene, ma questo qua l'ha già difeso a Cervi, c'è una sentenza. Il problema non sussiste più. Non sussiste più. E' il circo che abbiamo vissuto in queste settimane perché è mancata una cosa fondamentale a 360 gradi, persino a Juan Jesus, perché dice esattamente cosa ti ha detto. La lealtà, l'onestà e la sincerità sono mancate. Non è leale Gravina nei confronti di Juan Jesus, è leale, è un presidente federale. Non lo è Buffon perché non può dire, non può sdoganare gli insulti che fa la gente in tribuna che spende 200 euro per vedere Milan a Sago e quindi può magari scappargli la parola, non i professionisti in campo. Quindi poi la buona fede, quale giudice la può valutare. Questo è il teatrino che è nato, che è disgustoso. L'episodio è chiuso, c'è una sentenza. Arrivederci, ognuno parlerà con la propria coscienza. Marcello. Io ho visto lo stesso video che ha visto Luca e aggiungo che oltre a quello che ha sentito Luca, e quindi se l'ha sentito Luca l'hanno sentito anche i video di altre persone, visto lui il labiale, il labiale l'hanno interpretato, tutti l'hanno visto. Io oltre a quello che ha interpretato dal labiale Luca, io ho visto chiaramente lui andare lì da Juan Gesù, aprire le braccia e dire hai ragione, hai ragione, ma ti chiedo scusa, ma non sono razzista. Io infatti penso che Acerbi non è un razzista, è uno che è scivolato sulla buccia di banana solita che ti capita di incontrare. Però c'è anche una via di mezzo, visto che prima citavamo la giustizia sportiva e dice ma la giustizia sportiva prevede questo, questo, se non hai le prove è questo, se invece ce l'hai sono dieci giornate. No, la giustizia sportiva prevede anche l'articolo 39, comportamenti gravamente antisportivi, che sono due giornate e secondo me lui pur chiedendo scusa e pur facendo tutta questa cosa che è successo, poteva cavarsela con ben due giornate, ma almeno qualcosa si faceva, perché se no ha ragione Luca e dice ma Juan Jesus veramente è un deficiente? Cioè voleva provocare un casino così perché gli è saltata la mosca al naso? Cioè non ci credo, io non ci credo alla versione che Juan Jesus abbia mentito. Vabbè, Juan Jesus dice che pensava fosse finito tutto in campo e lui voleva finisse tutto in campo, è un altro giocatore che non conosce regolamenti, perché se tu vai dall'arbitro inizia l'iter della giustizia sportiva, anche se lui poi a Dazon a fine partita dice no per me è finita, non è finita niente, tanto è vero che il giorno dopo senza che parla ancora nessuno, iniziano le conseguenze. Non è questione di regolamento Michele, non è questione di regolamento. Se tu vai in commissariato poi non puoi dire però per me non mi chiamate più, poi c'è il processo. E' un altro discorso. Va bene però non capisco perché viene spesso sottolineata questa parte, c'è chi se ne frega, ho sentito pure Juan Jesus è andato dalla maestra e Juan Jesus è incoerente, ma chi se ne frega ragazzi. Allora vogliamo che finisca tutto in campo o no? Per me no, quella frase si è stata detta e per me non è, io non mi sentirei di mettere la mano sul fuoco, voi sì, ma non per ingenuità, ma perché per me… ha sensazione, è più sì o più no per te. La dinamica cosa chiama? Ma che ne so io, come faccio a saperlo se non lo senti? Non c'hai un'idea. No, ti dico che può essere benissimo, può essere benissimo, ma non ho, come si scrive nella sentenza che secondo me, ripeto, era l'unica cosa su cui pensavo fossimo tutti d'accordo, riscontro probatorio esterno, audio, video, finanze, testimoniali, che non c'è. Ma lui io la cosa che però, andiamo avanti su questo, perché tanto ognuno ha espresso la propria opinione, andiamo avanti, perché purtroppo può essere che succederanno episodi simili, non uguali ma simili, io su una cosa non ho capito, pensavo anche che su questo si potesse essere d'accordo, cioè al di là che se uno ha il curriculum di brava persona o meno, poi può succedere un evento che però va giudicato quell'evento, a prescindere da uno se ha una fedina penale punita o no, uno dice bravo ragazzo, allora non può fare niente, oppure un cattivo ragazzo, allora è sicuro colpevole, no, poi di volta in volta bisogna... Secondo te c'è stata un po' di prevenzione sulla figura di Acerbi? A me sorprende molto questa cosa, io veramente te lo dico, cioè Luca io sono rimasto sorpreso che tu dici per me oggi, nel 2024, perché il linguaggio è una convenzione, no, è una convenzione... Però quello, scusami... Se noi ci mettiamo d'accordo che dire quello che ha detto Juan Gesù nel posto tra virgolette Ma perché adesso ti stai focalizzando sul pensiero di Luca? No, nel senso che per la prossima volta allora non siamo ancora d'accordo su che cosa è il razzista e cosa è no, e questo è il punto, lasciamo perdere questo caso, ce ne saranno altri, la prossima volta, cosa è il razzismo e cosa non è, questo è importante, io questo non ho capito, per forza di razzismo, però ci sono insulti, comportamenti gravemente antispottivi, ho capito, ma la frase di Juan Gesù, Marcello, per te è razzista o no quella frase che Juan Gesù smette tra virgolette, per me se non è razzista quella non è razzista più niente. No, certo che è una frase razzista, ma nel momento in cui lui si rende conto, siccome io ripeto, credo che Aucervi non sia un razzista, si rende conto di aver esagerato, ha chiesto scusa e lì avrebbe fatto la più bella figura nel momento in cui ha denunciato sta cosa di dire sì, glielo ho detto, ho chiesto scusa, mi è scappata. Un po' come è successo tra Italiano e Juric alla fine di Torino-Fiorentina, che Juric gli ha gridato a Italiano ti taglio la gola, ti taglio la gola, alla fine si sono abbracciati, sono andati tutti e due davanti alla televisione, ho detto sì, ho esagerato, ho detto una roba che non dovevo dire, gli chiedo scusa, almeno quello. No ma infatti anche D'Aversa che entra in campo tira una testata ad Harry e poi dopo ai microfoni invece che dire mi è partito l'embolo, scusate, no ma io non gliel'ho tirata, cioè non è che gli ho tirato una testata, sono andato là a chiarire, non l'ho colpito, non l'ho colpito, cioè è là che esagere, quindi dice Marcello, Acerbi si scusa, salvo dopo ritrattare tutto, è là che peggiori. Questo sport è diventato lo sport per cui appena ti strusci cade a terra e urli come se ti avessero amputato un arco, poi ti rialci. Non ti dimenticare, non mi ricordo il caso di un giocatore nella storia che aveva detto sì, lo devi atta ai corner. Pessotto, Pessotto, a Perugia una volta. Raramente ma capita. Mi ricordo Robby Fowler che cade in aria, si alzò immediatamente e disse all'arbitro guarda che non è rigore e questo ha perso l'occasione storica di entrare nella leggenda del calcio, l'arbitro, perché se non avesse dato rigore sarebbe entrata una leggenda e invece l'ha confermato e Fowler gli ha detto guarda che non mi ha toccato, non è rigore. O Di Canio che ha preso la palla una volta. No, ma Di Canio ha interrotto il gioco, sì, è un atto di nonostante, faceva gol, due o tre cosucce sono accadute, ma lo sport è quello dell'inganno, perché quando tu ti comporti in quella maniera lì, che urli come se ti avessero veramente tagliato la gola, sta ingannando non l'arbitro, non gli avversari, non il pubblico, ma anche i tuoi compagni di squadra. Questo è il fatto. Quindi in un panorama come questo, dove tutto è impunito, non è che uno può dire, come ripeto, uno può avere la fedina pulitissima, ma se una sera scleres e ammaccia la suocera va all'ergastolo. Poi se per di più ne aveva già ammazzate due, ne prende tre e non esce più. Però questo è un altro discorso. Io parlo, c'è embolo, embolo, non è questo il caso, è una questione che sarebbe stata chiusa, bastava semplicemente avere un pochino più di sincerità e realtà, andare per esempio, se ci fosse stata una volta una della... Ma tu parli come Juan Gesù, se non si chiudeva niente, come si chiudeva? Non si chiudeva. No, si chiudeva, sai come si chiudeva? Si chiudeva. Con la squalifica. No, e vanno tutti e due davanti alle telecane. La squalifica, ma Cervi, da oggi a quando giocherà pallone, sarà etichettato in un certo modo del tifo. C'è stato qualcosa che non ha funzionato, ci siamo credi... Ma se andavano insieme qual era la conseguenza? Finiva lì? Finiva lì. Ma come finiva lì? Ancora Michele... Ci sarebbe stata un'altra farsa come quella che l'ho assolto e basta, però loro due la faccia l'avrebbero messo insieme, lo capisci? Questo devo farlo di bene. È salvare la faccia. Basta lealtà, basta onestà, basta civiltà, basta che ognuno dica le cose come stavano. Poi avrebbe avuto una giornata, due non l'avrebbe avuta. Ma minimo dieci, minimo dieci. Ma non me ne frega niente, la questione si sarebbe chiusa. In un mondo diciamo come lo preferisci tu Luca. Nel mondo come lo preferisci tu, nel mondo delle regole gli avrebbero dato la squalifica che merita quella frase. Sì, perché non sarebbe finita come dici tu. Michele, ascolta, la squalifica l'avrebbe presa. Ma agli occhi dell'opinione pubblica del mondo... Ma non lo capisci, è il mondo che vorrei io. A Cervi avrebbe fatto la figura di uno che ha sbracato... Ma in quale modo? Quello che in queste due settimane si sono divisi tra interisti e napoletani, juventini e anti-interisti. E infatti, non credo che si siano divisi. Ma dove? E questo è il problema. E questo è il problema. E tu dici che... E anche... Hanno fatto anche i sondaggi. Si giudica, ci sono ventini e milanisti, 98% a Cervi l'ha detto. E anche quelli... I milanisti non l'ha detto. Avevi dei dubbi? E allora si sono divisi. E anche quando Jesus fosse stato ancora nell'Inter e a Cervi nella Lazio fosse... Come mai Napoli ha detto con Sarri e Mancini, ha fatto il comunicato diverso da oggi? Come mai non erano più per i valori? Perché gli Sarri erano una brava persona, hanno scritto nell'Ecceto. E adesso siamo scivolati in quello che tu hai detto all'inizio. Non dire, juventini e anti-interisti, perché è quello che stai facendo anche tu, che stai facendo una difesa strema. Di chi? Io sto dicendo che se tu dici la frase che dice qua Gesù è il razzismo, perché non lo dite? Allora, io prima ho cercato di interromperti dicendo... Lo so perché non lo dici. Quando è questione di regolamento... Scusami? No, dico perché non lo dici? No, prima, quando tu hai parlato di regolamento, non sono riuscito a intervenire. E poi le cose, te le ha dette Luca, cioè se succedeva tutto in campo e come è stato detto, la cosa si chiudeva lì. Se vai da arbitro non si chiude. Ancora. Ancora. Prendeva la spalifica. Io dico, andai, agli occhi dell'opinione pubblica, allora mi facevo una bella figura. No, loro stanno dicendo che finiva lì, tu stai dicendo che prende la spalifica. Finiva lì, non c'è stata un'ammunizione. E lui dice che si prende la spalifica, mettetemi d'accordo. Ha chiuso la storia. No, lui ha detto che prende la spalifica. Ma che me ne frega di mettermi d'accordo? Ma che parte stai facendo tu stasera? No, perché lui mi dice che sono io che non capisco. Lui dice che sono io che non capisco. Di cosa stai parlando? Sto parlando che se andavano alla fine... Tu stai dicendo una scemenza. Perché la questione finiva lì, perché tanto è vero che davanti al giudice sportivo l'arbitro non avendo sentito nulla, non ha scritto nulla. Quindi te lo ripeto, per la quanta e l'ultima volta finiva lì. E Guancenzo si dice di no. Ma vai a pensarla come ti pare, perché è un tuo giocatore. Ma che me ne importa del mio giocatore? Te ne importa come? Allora tu stai dicendo che non è razzismo dire quella parola. Tu non io. E sono convinto di quello che dico. Io invece dico che è razzismo. E se in Gesù è un altro discorso, un conto è quello che tu pensi e quello che pensi a me. No, 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 quello che pensano tutti. Un conto è quello che a partita finita, non avendo l'arbitro sentito nulla, non avrebbe scritto niente nel referto e una storia che, anche se ti dispiace, sarebbe finita lì. Ma se c'è quella frase nel referto, prende dieci giornate, lo stai dicendo che invece non è vista questa regola. Ragazzi, voglio ascoltare tutti. E se chiudi e poi Angelo, per favore. Chiudo dicendo che assolutamente fidiva lì, Acerbi andava lì, gli diceva, senti, ho sbroccato un attimo, però mi conosce, abbiamo giocato insieme e tutto quanto, abbi pazienza. Invece l'altro poi, finito, sente Acerbi che dice, no, ma io non gli ho detto niente, probabilmente non è del tutto convinto che sia così, si è sollevato tutto questo polverone e quindi la cosa è andata avanti. La mattina dopo è andata in nazionale, l'hanno mandata a casa. Angelo, 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 Angelo. Chi sa com'è mai? Ragazzi, ma è mai sentito lì. Michele, voglio sentire tutti. Io concordo con la riflessione che fa Luca. Luca parte da un presupposto, dice, questo è un brutto episodio dove o da una parte o dall'altra c'è stata disonestà. Le due persone avrebbero potuto evitare un momento di disonestà, perché i casi sono due, o uno a mente che l'altro ha detto, o uno a mente di non averlo detto, ma uno dei due mente, Luca ha ragione a dire, uno dei due mente e questo episodio è un episodio che fa male al calcio, perché esce… Angelo, nel momento in cui questo va a scusarsi, è perché non è l'altro che… Io voglio stare su un fatto che nessuno può discutere, sicuramente qualcuno dei due e quindi questa cosa fa male al calcio. La vera riflessione per andare verso la riflessione che fa Michele è, ma la regola calcistica che prevede il fatto di minimo 10 giornate di squalifica non andrebbe rivista con un fattore di premialità di un eventuale gesto di acerbi di dire, ma se uno ammette di aver sbagliato e purtroppo, anche se un professionista non dovrebbe mai scivolare, ma in quel contesto sportivo, frenetico… Un pettito… È gravina, è professionista anche nei pettiti… Ma non è stato questo il caso… No, è quello però io dico, secondo me bisogna spingere… Bisognerebbe spingere la regola anche a fare in modo che qualcuno possa sentirsi libero che la verità premia. Certo. Ecco, questo è il tema. La verità premia, ci può stare. Ci sono sempre dei paletti, perché non è che basta chiedere scusa, è evidente che se uno trasferisce, trasferisce in una certa maniera. Oltre alla sentenza del giudice sportivo c'è quella del Presidente federale che ha detto testuale, credo ad acerbi, parentesi diciamo tutti noi, quindi non credo a Juan Gesù, scusa la parentesi, e quindi quando lo vedrò lo abbraccerò, parentesi, non abbraccerò Juan Gesù, o comunque non ci ha comunicato questa sua intenzione, scusa parere. Quindi il verdetto è acclarato che vada in una direzione, è così e bisogna prenderne atto. Fine del circo, ognuno ha detto la sua, compresi noi, sappiamo che il Festival dell'Antirazzismo è una presa in giro nel calcio, perché ricomincia poi dalla prossima partita, e sappiamo perfettamente che una volta di più è stata persa un'occasione per essere leali, onesti e sinceri, punto. Ci dobbiamo fermare ragazzi, caro Marcello, caro Ezio, cari tutti, e rientro, ripartiamo con le parole di Massimiliano Allegri. Però Paolo, se noi ce la prendiamo con uno che parla, noi con il DASP abbiamo... Basta Michele, basta! Michele, però mi devo fermare. E no, ma il punto lo dovete mettere sempre come dite voi, giusto? Ma basta! Io sto dicendo che una persona nera, con Mignanna, in Udinese e Milano, che è sicuro che non è razzista contro se stesso, giusto? Però, visto che c'era l'immagine, lo hanno da spato, giustamente. Quindi, se noi diciamo lì, giusto, le telecamere oggi ci aiutano a fermare lo spettatore, perché dopo possiamo dire che se succede un professionista in campo, sono questioni di campo? Ma perché lì, e di fare contro, se non ho fatto niente, non chiedo scusa. Ancora, te l'ho già detto il fatto delle scuse, però essere una scusa per un equivoco. Ben ritrovati. Allora, Inzaghi recupera Sommer dall'infortunio. Poi ci sono delle voci che vorrebbero comunque un Inzaghi cauto col portiere austriaco, che comunque mettere dentro Audero dal primo minuto. Inzaghi che punta il nuovo 2027. Andiamo per gradi però, Michele. Questa dovrebbe essere la formazione che lunedì affronterà l'Empoli e noi saremmo qua nel giorno di Pasquetta a raccontarvi la partita. Sì, ci sono due ballottaggi con Pavard Bisse che è Darmian Dunfri, cioè praticamente la fascia, la fascia, no, Cerbi gioca perché Devrai, no, però poteva essere Devrai invece Devrai e tra gli indisponi sono rimasti ancora fuori. Devrai. Quanti punti vi mancano per la matematica certezza della seconda stella farlocca? Allora, la matematica, ancora questo farlocca, la matematica, dai, dopo un campionato del genere vi diceva che... No, no, lui discute i 20 scudetti, non questo. Vabbè, io ne discuso 10 dei tuoi per rimanere basso. Vabbè, ci puoi anche raccontare Biancaneve, Cenerentola, che se andiamo a fiabe... Se vuoi posso partire da quello in cui l'Inter aveva vinto a tavolino, l'Inter aveva vinto a tavolino, ti giro io la domanda, sogni di vincere nel derby di Milano? Ma dovendo scegliere non sarebbe male, anche se l'Inter è dall'88-89, poi ne ha 26, che non vince uno scudetto a San Siro, quindi non sarebbe male nemmeno Inter Torino, Inter Cagliari, che sono le due prima e dopo il Milano. Quindi quanti sono i punti, scusa? Sarebbero 14 se il Milano le vince tutte, ma il Milano non credo che le vincerà tutte, perché se le vince tutte arriva a 89, l'Inter a 76 dovrebbe fare 14 per arrivare a 90, ma secondo me basteranno meno punti. Luca, sarebbe un grosso smacco che l'Inter vincesse lo scudetto nel giorno del derby di Milano con il Milano in casa? No, perché è un'eventualità che non viene presa in considerazione. Anche Calabria mi sembra che l'ha detta, no? Perché ridi? Hai usato il condizionale, non lascia perdere la matematica, gli assi, il karma, non avviene. No, no, il karma, la matematica. C'è una campagna ormai mediatica su questa roba qua, che deve vincere. Ah no, non lo sapevo che c'era la matematica. Io sì, perché... Ma diciamo pro, cioè dal punto di vista dei milanisti? No, 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 in generale. Perché l'hanno chiesto a Calabria, io ho sentito. Sì, ma l'ha chiesto a me stasera, ho risposto alla stessa cosa. E' un'eventualità che nessuno prende in considerazione. Nessuno di chi? Ah, quello che deve succedere. Nessuno in generale. Li servono, servirebbero... Nessuno chiede in Namibia stasera... Non lo prendono in considerazione. Li servirebbero all'Inter stare più 16, perché mancheranno poi altre 5 giornate. Sì, ma non ti starà a rovellare. Non succede nel DER. Non succederà nel DER. Concordo. Non vorrei mai che anzi, proprio quella giornata lì, siate costretti a rinviare la FED. Poi è di lunedì. Non vorrei mai. Ma è già successo, ha un altro scudetto dei record, quello di Mancini del 2007. L'Inter voleva vincere con la Roma lo scudetto che era la seconda di mercoledì, perché l'ha stata rinviata, e perse in casa con la Roma dopo che non perdeva da una... E quindi io andrei molto cauti su questa storia. Però dico, se lo vince col Torino sabato dopo... Però non ci interessa, ha fatto una domanda precisa, che se nel DER no... E così però mi fa venire la voglia di vincerlo ancora di più. Ma ce l'avevi già prima la voglia. No, sì, dovendo scegliere, è bello vincere un DER. Adesso ha detto no, come prima. No, io non difendo a Cervi perché gioca nell'Inter. Ha detto lo stesso no. Ma infatti non l'ho difeso, siamo ancora all'inizio della trasmissione. Sì, sì, sì. Angelo, tu lo vuoi vincere nel DER? No, no, io preferisco la linea, no, non capiterà. Non capiterà. No, io sono un superstizioso, quindi non capiterà. Mi va bene che gli altri dicano non capiterà. In verità a livello di D-punti è molto più probabile che l'Inter abbia questa possibilità, abbia la possibilità, vincendo... Ma noi dobbiamo dire che non capiterà. Va bene, non capiterà. Ma tanto ce l'avete in tasca da quattro mesi. No, beh, certo, però sai, a livello di smacco, a livello tifoideo, no? Ho però sentito che non capiterà. Che poi si gioca di lunedì il derby. Si gioca di lunedì. Non si è mai giocato, si è giocato tutti i giorni della settimana, a parte il lunedì. Quindi c'è questa primizia del lunedì. A proposito di statistiche benauguranti, Pioli, nei sabati toscani contro italiano, ha sempre perso. Due volte con la Fiorentina, una volta con lo Spezia. Vabbè, però... No, no, ma... Tre volte, dici la quarta. Sai, come ti ripeto, in questo momento il campionato è sostanzialmente in cassaforte, perché l'obiettivo che il Milan doveva raggiungere lo ha raggiunto, quindi può usare le forze. Voglio dire, la Juventus ha una trasferta difficile, se vuoi, per l'onore delle armi arrivare secondo è meglio che arrivare terzo, ma è una consolazione magra, interessa solo a Pioli questo. Nel senso che se arrivi secondo... Certo, qualche milioncini in più. Qualche milione è la Supercoppa italiana. La Supercoppa italiana e hai però anche l'Europa League a cui pensare. Sì, sì, sì. E il derby. Perché il derby non è solo una questione della festa, è che dopo il 2023 anche basta. Devi battere un colpo. Ma però c'è da dire che oggi Pioli ha parlato del divario con l'Inter e mi ha un po' sorpreso, perché io l'ho trovato un po' sulla difensiva. Lo vuoi ascoltare? Sì. Dai, ascoltiamolo, tanto guarda, non è tanto lunga questa clip. Però dico, vi ricordate, prima di quella di oggi, aveva parlato quando per esempio aveva perso i derby, forse perché a caldo, era stato molto... Vi ricordate le famose frasi, però nei primi sette minuti non erano in patinaria. Mentre oggi ha parlato diversamente, secondo me. Ascoltiamolo, Pioli sul distacco reale dall'Inter. 14 punti sono reali, perché la classifica non la possiamo certamente cambiare in questo momento e significa che l'Inter ha fatto un campionato eccezionale e che noi non abbiamo avuto, soprattutto in un mese, la capacità di ottenere quattro vittorie consecutivi o comunque qualche vittoria in più che ci poteva permettere di stare più vicino. Credo che negli ultimi due o tre mesi ci siamo avvicinati tanto a livello di gioco e anche a livello di risultati. Adesso è una squadra molto competitiva e adesso dobbiamo provare a continuare a fare così fino alla fine. Stai dicendo un po' più modesto qua, Pioli? No, che ha detto, non è per gli infortuni, cioè non si è aggrappato a niente, cioè non ha detto gli infortuni mi sono valsi dieci punti, siamo a posto così l'anno prossimo partiamo zero a zero. Cioè dice, noi possiamo essere la seconda forza in questo momento, però lavorando come abbiamo fatto, oppure negli ultimi due o tre mesi c'è una crescita. E poi secondo me, anche si riferisce, mettendo a posto due o tre cosine quest'estate, possiamo lottare. Però secondo me fa una diagnosi seria dello stato dell'arte, perché secondo me dire è un caso, come ha detto Furlani, l'anno scorso si è toccato al Napoli, quest'anno tocca all'Inter, secondo me parti male per poter poi colmare il gap. Marcello, Inzaghi merita un rinnovo fino al 2027, può aprire un ciclo con l'Inter secondo te? Ci sono i presupposti affinché? Caspita, vince lo Scudetto, come fai a esonerare uno che ha vinto lo Scudetto? Ti porta alla seconda stella? Non puoi esonerarlo. Poi tra l'altro quest'anno il miglioramento da parte dell'Inter è evidente. Rispetto all'anno scorso, anche se l'anno scorso è arrivato in fine di dicempo, persa, persa, perché loro poi si vantano di essere i vice campioni di Europa, persa, come le aveva perse la Juve. Sì, ma il ciclo dell'Inter è iniziato quattro anni fa. Però devo dire che dall'anno scorso ad oggi io vedo un'Inter più forte, migliorata, con Inzaghi che ha fatto tesoro dei propri errori, che ha migliorato anche dei giocatori, quindi per me è scontato che lui rimanga lì, a meno che non sia lui che se ne voglia andare, è il solito riscorraggionamento che facevamo prima, ma non penso. Con che proprietà? Con che proprietà rimarrà Inzaghi? Chiedilo al contabile lì in studio lì, chiedilo al revisore dei conti che c'è lì. Ma guarda, lo statistico. Credo non lo sapeva anche Zang. No, però ho sentito, non si può licenziare un allenatore che vince il scudetto. No, no, ma io non parlavo di licenziare, di rinnovare. No, ma io sappiamo qualcosa, eh. Cioè l'abbiamo fatto più di una volta. Sì, sì, però è diverso, ma era diversa, la situazione di Sarri è diversa, dai. Ma non solo di Sarri. Nettamente diversa. vince anche Allegri. Anche Allegri, vabbè. Anche Allegri. Ho capito, ma lì, ad esempio, perché volevano vedere il bel gioco, Nettvede, Paratici, noi l'abbiamo visto. L'Inter sta giocando bene. Adesso, obiettivamente, al di là delle rivalità, l'Inter sta giocando bene. L'Anzi, durante la festa dello scudetto, quella sera stessa, lì, quella sera stessa, comunicarono a Del Bosque, che non ha più un allenatore del Real Madrid. Beh, Benitez ha vinto un mondiale per club e ha preso subito dopo il fisco finale che era stato esonerato. Però con Inzaghi, insomma, c'è un legame che si è creato, struttura dirigenziale, staff tecnico, molto forte. Infatti, il 2027 non è una data a caso, perché tutti i vari contratti, Marotta, Ausilio, sono stati prolungati a novembre scorso, fino al 2027. Quindi, anche per rispondere poi alla domanda, non si sa, il 20 maggio, se Zang troverà una soluzione per andare avanti oppure l'Inter poi finirebbe... a prescindere, l'aspetto tecnico rimane, a prescindere dalla... Però con questa Inter, Michele, con questa Inter, lo scudettino è un po' poco. No, ma appunto, io contesto questa cosa, può partire il ciclo. Il ciclo, non ve ne siete accorti, è partito nel 19-20. Ciclo vincente. Eh, ma sono quattro anni che vince l'Inter trofei. No, parliamo di scudetti, ho capito. Eh, ha vinto lo squelto con Conte. Un ciclo più vincente. Tre anni fa. Ma è il motivo per il quale, secondo me, ci sono altri obiettivi che questa Inter può raggiungere, sicuramente, quindi non... O arriva qualcuno a fare una proposta irrinunciabile o è chiaro che questo assetto lo troveremo anche alla prossima stagione. Cioè, Bialonzo resta alle vercuse, no? Sì, ha sgombrato il campo dei dubbi e quindi sia a Bayer Monaco... Sto aspettando che Ancelotti, secondo me, lasciare... Eh, perché è realmente... Per accasarsi in Spagna. La domanda di Paolo non è da trascurare. Cioè, adesso, al di là della bravura di Inzaider che merita di essere confermato della squadra che gioca bene, eccetera, chi è? Chi sarà il proprietario dell'Inter? Ancora il vecchio Steven? Il vecchio Steven? Cioè, sempre lui? Eh, no, ma tu fai sempre sti risolini ironici. No, io non ho proprio riso. Tanto la risorgiamo. Non è che c'è dietro lui è per quello che sorride. Non è che... Non è che c'è dietro lui è per quello che sorride. C'è una cordata, c'è una cordata. Un'accordata capitanata da Michele Borrella. OCTRI eventualmente. No, ma non hai so... Ho paura più con l'accordata. Eventualmente, dico OCTRI. Se li hai fatti prestare anche lui. OCTRI sarebbe un fondo che non ha voglia di gestire chissà per quanto te. Cioè, sarebbe una fase, inizierebbe una fase di transizione per trovare... OCTRI, il compratore, il compratore ce lo va a trovare da solo. Capisci? Il compratore ce lo va a trovare da solo. Allora, intanto bisogna vedere perché l'intenzione di Zhang è andare avanti, bisogna vedere però se ci riesce. E il 20 maggio è vicino e lo sapremo. Poi, se l'Inter invece dovesse andare a OCTRI... Se non gli danno i soldi con come ci riesce. OCTRI? OCTRI?